Circolo culturale tolkeniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Ancora Oppenheimer ne ho già parlato ho realizzato una mia riflessione in merito davanti a questo film che in qualche modo è epocale dal momento che ha caratterizzato tutta la nostra estate tutti l'hanno visto tutti hanno desiderato vederlo e dire la loro c'è chi ha detto che un capolavoro c'è chi ha detto che non è affatto un capolavoro c'è chi ha detto che è un bel film c'è chi ha detto che è orribile che ha problemi di sceneggiatura c'è chi l'ha esaltato c'è chi l'ha denigrato ovviamente stiamo parlando di un film di Nolan e Nolan o lo si ama o lo si odia. Per me si tratta veramente di un gran bel film che non è veramente interessato a discutere del problema della creazione della bomba atomica non è un film che fa della filosofia della scienza perché il suo interesse è un altro. Come ho detto nel mio video specificamente dedicato al film Oppenheimer mi ha molto colpito quello che ha scritto il mitico Mereghetti sul Corriere della Sera che voglio riportare ancora una volta. Si tratti di vendicatori mascherati o agenti della CIA, soldati semplici o astronauti, i personaggi che affascinano Nolan devono fare i conti col fatto che la loro superiorità intellettuale è frenata da qualche inconfessato segreto e insieme a misurarsi con la complessità di un mondo ostile che sembra indecifrabile, attraversato da una violenza opaca e difficilmente governabile per affrontare la quale si può anche arrivare al sacrificio o a una rinuncia prima impensata. E se la mettiamo in questi termini il film di Nolan è perfetto per raccontare il genio perseguitato dal mondo. Un genio che è disposto a tutto ma che poi comincia a avere dei problemi degli scrupoli di coscienza. La cosa che secondo me emerge chiaramente dal film di Nolan è che Oppenheimer è un personaggio indecifrabile che resta un mistero per tutti compreso se stesso. Non voglio tornare su quanto già detto, voglio invece affrontare il film da un punto di vista tolkieniano o quale io sono. Da qualche parte ho sentito paragonare Oppenheimer come personaggio con Saruman, il mago traditore del Signore degli Anelli. Un altro che potrebbe definirsi come Oppenheimer, un distruttore di mondi, un altro che viene a patti con il potere. Ma si potrebbe benissimo estendere il ragionamento anche a Sauron. In fondo Sauron crea l'anello del potere, l'arma più terribile del mondo che potrebbe essere equiparata a una bomba atomica. Non è nuova questa interpretazione. In molti già all'uscita del Signore degli Anelli hanno voluto leggere nell'anello un'allegoria della bomba atomica. Posto che nel Signore degli Anelli non ci sono allegorie, è comunque lecito fare un'applicazione e pensare che dunque l'anello è l'arma più potente del mondo come la bomba atomica. E quindi anche nella Terra di Mezzo ci si trova davanti alla necessità di utilizzarla, forse a fin di bene. Il film di Nolan cerca di riflettere sul problema della necessità, opportunità e pericolosità di costruire e utilizzare l'ordigno nucleare, ma sempre in maniera molto ambigua. Prima si dice che bisogna costruire la bomba prima dei tedeschi, perché i tedeschi potrebbero arrivarci prima e quindi arrivandoci prima potrebbero utilizzarla prima e quindi potrebbero vincere la guerra. Poi dopo aver creato la bomba atomica si dice che la bomba atomica va utilizzata esattamente come avrebbero fatto i nazisti. Tuttavia si insinua il dubbio, si sarebbe potuto utilizzare la bomba atomica contro la Germania nazista, ma contro il Giappone forse le cose stanno in maniera diversa. Ma c'è qualcuno che dice che la bomba atomica va utilizzata contro il Giappone sia per impedire una lunga e sanguinosa guerra che deriverebbe da un'invasione del Giappone stesso, che porterebbe alla morte di migliaia di soldati americani, sia per mostrare i muscoli agli alleati sovietici. Infine, dopo aver utilizzato la bomba atomica, lo stesso Oppenheimer si pente di quello che è successo e dunque decide di smettere di utilizzare la bomba. A un certo punto pensa anche che sia possibile utilizzarla una sola volta per dimostrare al mondo la spaventosità della potenza di questo ordigno di recente invenzione, come se bastasse vederlo in azione una volta per poi convincere tutti della necessità di non usarla più. E i politici ovviamente non ci pensano due volte, visto che il presidente Truman dimostra di essere di un cinismo esasperato. Insomma, dal punto di vista tolkieniano il film è ampiamente criticabile. Per chi qui verrebbe a dire abbiamo l'anello? Lo utilizziamo una sola volta, poi smettiamo di farlo. E questa cosa non si può fare, dal momento che noi sappiamo che l'anello è radicalmente malvagio e non può essere utilizzato. Lo dice Elrond durante il consiglio di Elrond. Quindi se equiparassimo l'anello con la bomba atomica, beh, ne deriverebbe che la bomba atomica non deve in nessun caso essere utilizzata, mai essere sganciata. E in fondo in qualche modo l'idea iniziale di Oppenheimer potrebbe essere quella di Saruman. Avere una grande arma da utilizzare come spauracchio contro i nemici e poi come grande monito per il mondo. In fondo è una posizione che richiama la frase che Gandalf dice all'interno del primo film della trilogia dell'Obit. Una frase molto bella. Saruman ritiene che soltanto un grande potere riesca a tenere il male sotto scacco. Ma non è ciò che ho scoperto io. Oppenheimer potrebbe essere Saruman. Potrebbe essere un mago che utilizza le sue capacità, la sua arte, per utilizzare una terminologia tulkiniana, ma pervertendola in tecnica. L'anello è la macchina. E quindi la tecnica perverte l'arte originale, trasformandola in una cosa negativa fatta per il desiderio del possesso della coercizione. E dunque l'arte, in questo caso la scienza, si trasforma in qualcosa di estremamente negativo. La subcreazione viene pervertita. Oppenheimer, distruttore di mondi, si rivelerebbe dunque un novello Saruman. C'è però da dire che a un certo punto Oppenheimer si pente di quello che ha fatto. E dunque non è molto Saruman. Saruman non si pente mai. Saruman parte da un presupposto che è il seguente. Tutto è lecito per riuscire a ottenere i propri scopi, che sono sempre buoni e giusti. E nel suo caso corrispondono a un desiderio di ordine, di sapienza, di conoscenza. E Saruman è disposto a tutto per arrivare a questo scopo, utilizzare qualsiasi mezzo. Per Saruman il fine giustifica i mezzi. Quindi sarebbe disposto anche utilizzare la bomba atomica. Saruman non si farebbe problemi a utilizzare l'anello. E dunque Saruman non si pente mai. E non si pente mai neanche quando Gandalf gli offre la possibilità di ravvedersi. Gli la offre più volte. E Saruman rifiuta sempre in maniera sdegnata. Oppenheimer invece si pente. In qualche modo comincia una crociata per sensibilizzare il mondo dalle conseguenze terrificanti della sua stessa scoperta. Ovviamente non ritengo che questo sia il corretto modo per giudicare il film di Nolan. Come detto, a Nolan interessavano altre cose. Oppenheimer, la fisica quantistica, la bomba atomica, sono solo degli espedienti per raccontare. Una storia a uso e consumo di Nolan perfetta per il suo modo di intendere il cinema e perfetta per il suo modo di raccontare le storie, sempre legate a un determinato tipo di protagonista. Eppure credo che qualche ragionamento tolkieniano sia possibile farlo. E da questo punto di vista Oppenheimer è un film molto poco tolkieniano.